Abbiamo visitato la squadra dei hockey su pattini Pula In Line. La squadra si allena in patinaggio nel centro sportivo Mirna a Pola. I vari gruppi adatti a ogni età possono essere anche bilingui. Dei successi e premi della squadra abbiamo parlato con il rappresentante Ivo Ferri. Buonasera a tutti gli aspettatori. Siamo un gruppo di entusiasti che cinque anni fa abbiamo fondato il club Pula In Line e abbiamo iniziato a giocare un po' più seriamente. Però a Pola si gioca hockey da 1922 mi pare. Sì, diciamo che la data, il 1922, è una data importantissima perché Pula ha disputato il campionato italiano di hockey e ha vinto. Era un trionfo grandissimo, dopodiché a Pola hanno aperto tre o quattro nuovi club che giocavano a hockey. Ora voi giocate a tre lighe, quella slovena, quella mediterranea e quella croata, se non mi parli, sì, vero? Sì, sì, esattamente. Noi abbiamo giocato il campionato croato nel 2012. È un campionato bellissimo dove ci sono circa una decina di squadre. Abbiamo disputato il campionato croato dove abbiamo vinto. C'erano 12 squadre, tutte dal circondario zagabrese fino a Slavonski Brod, a quei territori lì. L'anno dopo abbiamo deciso di disputare un altro campionato perché ovviamente abbiamo vinto il campionato croato. Siamo andati a giocare in Slovenia, nel campionato sloveno. Che è una lega più forte, credo. Sì, è una lega diciamo un gradino più forte perché i sloveni giocano molto più seriamente, hanno tantissimi club sia su ghiaccio che su pattini a rotelle, pattini in line. Lì abbiamo fatto anche un esordio perché siamo entrati nei play-off, dopo i play-off siamo entrati pure in finale. In finale purtroppo abbiamo perso, però siamo venuti vice campioni sloveni. Che ottimo! Però voi avete anche fondato una lega. Sì, l'anno scorso abbiamo fondato una lega, si chiama la lega mediterranea, l'abbiamo fondata, una lega A4 dove ci sono i Zaratini, i Spallatini, i Fiumani e noi. Quest'anno era una lega diciamo un po' più piccola perché era una lega A4 dove siamo arrivati a un buonissimo secondo posto, siamo anche qui vice campioni. L'anno prossimo il nostro campionato, la lega mediterranea, sbarca i confini e andiamo a giocare pure con i sloveni e con gli italiani. Ottenendo tutti questi risultati si pone la domanda come sono le condizioni di allenamento. Le condizioni di allenamento purtroppo le potete vedere perché noi stiamo giocando adesso sull'unico campetto di hockey qui in Istria che è a Pola. Questo campetto è stato fatto nel 1982-83 credo. Quella volta purtroppo non si guardava bene all'isolamento, quelle robe lì purtroppo noi qui abbiamo il problema che ogni volta quando c'è un po' di umidità il terreno è tutto bagnato, si scivola troppo e non possiamo giocare. E i bambini dei Pola in line? I bambini sì, dobbiamo dire che abbiamo tre sezioni. Abbiamo la sezione dei più vecchi che diciamo siamo noi, c'è la sezione dei giovani che vanno dai 14 ai 15 anni e poi ci sono quelli piccini piccini. Quelli ci teniamo più di tutto perché sono dei ragazzini che vanno dall'età da 4, 5, 6 anni. E' bellissimo vederli pattinare, è molto divertente sia maschi che femmine, ne abbiamo di tutti i colori dai. E vintiamo a venire a allenarsi? Sì, magari serve bellissimo perché gli allenamenti sono aperti a tutti, può venire chiunque ha voglia di giocare, di divertirsi un po'. Viene qua, c'è il presidente e il vicepresidente, il presidente si chiama Arsen Lazaric, c'è il vicepresidente Stanko Ciacinovic, può venire chiunque vuole. Non è necessario che uno sape parlare la lingua italiana perché parliamo sia in croato che in italiano. Siete bilingui? Siamo bilingui, siamo qui il martedì e il giovedì dalle 6 alle 7 oppure dalle 8, benvenuti a tutti. Dopo abbiamo fatto due chiacchiere con alcuni interessanti soci del club. Ciao, sono Raul e gioca in pula in line, hokei. Io ho 10 anni, io sono partiere e mi piace giocare hokei. Mi chiamo Sara, ho 33 anni, moro qui in pula, ho 14 anni. Comecei a giocare hokei, 3 anni fa, è un esporto spettacolare, è molto buono, è radicale, è extremo. E tutto ciò che posso dire è che dopo che ho terminei il futsal, il hokei è il miglior esporto che c'è per me. Grazie a tutti.